E parliamo di libertà sui social dopo l'evento di Donald Trump, il lo tempore, del rapper Yeah, 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 yeah Insomma, parliamo un po' di queste cose qua perché c'è una grande confusione in merito Si mette tanto la morale, l'etica, tutte queste robe qua Ma andiamo strucca, strucca, andiamo al butto E Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video Prima di addentrarci in questa tematica profonda Vi sentite libero libera di lasciare un commento, condividere e fare quelle cose utili lì Affinché diffondiamo un po' di pace, gioia, felicità, serenità in mezzo alle galline qui dal Kenya Allora, la questione è molto semplice Allora, tutti sono scagliati con questa questione morale che dice No, la libertà di parola, bisogna lasciar parlare tutti E uno ciò pensa Dice, beh, effettivamente è giusto Vivere in un mondo in cui tutti possano esprimere il loro pensiero Sono favorevole alla spruzzazione Sono contrario alla spruzzazione Confrontiamoci in maniera civile, elegante, tricchio, ballacchio A questa roba qua Donald Trump Sono favore stato eletto Presidente degli Stati Uniti Trac, gli vengono bannati degli account Un po' di tempo fa Un po' di account Sui social La stessa cosa succede adesso A questo rapper che Pubblica la svastica Eccetera, insomma, fa un po' di robe E il buone Elon Musk gli dice No, guarda che sto giro hai fatto la pupù Fuori dal vasino E io ti butto fuori Non si fa così, così, così E lui dice No, ma guarda che Hitler ha fatto anche delle cose buone Bla, bla, bla No, questo è troppo Allora, che cosa succede? Che il pensiero comune In relazione ad Hitler qual è? Che sia un brutto cattivone Che ha fatto delle cose che non vanno bene Io banalizzo, ma così ci capiamo Lui cerca di sostenere la sua opinione Dice, no, però, ba, 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 ba Non è così Ora, qua c'è il grande scontro Libertà di pensiero sì Libertà di pensiero no Ora, riportiamola a un caso pratico Un ristorante Un ristorante Allora, noi abbiamo un ristorante E adottiamo lo stesso identico principio Della libertà di pensiero Estendiamola La libertà di azione Ognuno è libero di fare Quello che vuole Se ognuno è libero di dire Quello che vuole Ognuno è libero di pensare Quello che vuole Allora è anche giusto Che ognuno sia libero di fare Quello che vuole Seguendo questa Questo sillogismo Seguendo questa Consecuzio temporis Va beh, insomma Se uno è libero di pensare Sarà anche libero di fare Sicché andiamo nel ristorante Anarchico E Pierino Pieri, chiamiamo Pierino in causa Decide di tirarsi giù i pantaloni Nella sala E di fare la cacca in mezzo alla sala La gente dice Eh Ma ha fatto la cacca in mezzo alla sala E beh C'è libertà di espressione Libertà di pensiero È giusto Che ognuno dica Pensi Faccia Quello che vuole Oppure Dici Eh vabbè Ma hai esagerato la cacca Va bene Ok E Cosa succede Che Potrebbe essere Riferito solo esclusivamente al linguaggio Quindi riportandolo al mondo social Senza fare la cacca Ma immagina che ci sia Una persona Che inizia A tirare giù tutti i sacramenti In un ristorante Molto elegante Credi che il proprietario Di quel ristorante Sia felice Di avere Una persona Che inizia Ad inveire Contro tutti gli altri Quindi inizia A insultare I vicini di tavolo E sta esprimendo il suo pensiero Quindi Cosa facciamo Esprime il suo pensiero C'è libertà di pensiero Ed è giusto Te l'estremizzo questa cosa Perché 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 prendere delle decisioni Non è sempre facile Quindi Il buon Mark Zuckerberg Il buon Elon Con che cosa fanno i conti Alla fin della fiera Sono un'azienda Proprio come Un ristorante E si sono resi conto Che Le persone Vanno a casa loro Nel loro sito Se nel loro sito C'è un certo tipo di ambiente Proprio come tu vai In un ristorante Dove la gente Non fa la cacca per terra E proprio come tu vai Proprio in quei social Perché Perché è già stato fatto Questo test Ci sono già stati O ci sono tuttora Non lo so Non so se esistano tuttora Probabilmente sì Dei social Dove c'è libertà di espressione Dove la libertà di espressione È più ampia E cosa succede? Che la gente non ha piacere Andare lì Quindi Strucca strucca Hai la possibilità Di andare in un social Dove puoi dire Quello che vuoi E in un altro Dove ti vengono date Delle linee guida Delle linee di condotta E si dice Guarda Il buon Zuckerberg dice Guarda A casa mia Ste cose qua Non le puoi dire Se non ti piace Va da un'altra parte Cioè Va da un'altra parte Io capisco Che È difficile Moderare Moderare È un'attività Complessa Hanno preso Mi pare che sia sorto Anche Tutta una questione Assurda Sulle donne Che mostravano Il seno Allora Il seno così No Il seno Mentre al latti Sì Però Se fai vedere Un po' Il capezzolo Sì Tre quarti Di capezzolo Va bene Cento per cento Il capezzolo Non va bene È complicata Cioè Guarda Questi qua C'hanno un lavoro Difficile Cioè È complicato Metterli tutti D'accordo Ma se non vai D'accordo Nemmeno con te stesso Pensa mettere D'accordo Milioni Di persone Milioni Cos'è Do metterlo D'accordo Milioni Di persone Sì che sicuramente Non la fanno giusta Cercano di fare Del loro meglio Per trarre Maggior profitto Dove? Nelle loro tasche Giustamente Se tu è un ristorante Vuoi trarre Il massimo profitto Dal tuo ristorante Nessuno ti viene A dire niente Vuoi trarre Maggior profitto Dal tuo ristorante Metterai delle regole Delle norme Di condotta Nel mio ristorante Si entra solo In giacca e cravatta Se non ti sta bene Non venire Capisci? Non venire Qui si apre Tutto un'altra parentesi Nel senso Che ormai C'è una sorta Di monopolio Nel senso Che se non sei Su determinati social Se non sei Su google Se non sei Su twitter Se non sei Su facebook Instagram Non so I più comuni Tic e toc Quelle robe lì E' come se tu Non esistessi Eh Sicché E' difficile Sia da un lato Che dall'altro Complesso 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 E' un argomento Molto complesso Ma la morale Non c'entra proprio niente In questa roba qua Farne una questione morale Non serve a nulla Serve fare una questione Pratica Pratica Una questione molto pratica E la regola Dietro questa roba qua E' una roba molto pratica Il buone Elon Musk Vuole portare Massimo profitto Alla sua piattaforma Di twitter Buon Zuckerberg Uguale E via discorrendo E tutti Fanno lo stesso Identico ragionamento Osserva questa roba qua Da una nuova prospettiva Che magari ti può essere utile Da Luca Luna è tutto Noi ci vediamo Prossimo video Prossimo audio Prossimo post Ciao ne